Un saluto quasi commosso alla città durante la conferenza di oggi da parte degli alti ranghi dei carabinieri della provincia di Pesaro Urbino, che si apprestano a trasferirsi e prendere servizio in città diverse da quelle del territorio pesarese. Un'occasione per ringraziare i cittadini e le istituzioni della loro vicinanza e sostegno, ma anche un modo per ripercorrere quelli che sono stati i momenti che hanno segnato il loro percorso professionale nella provincia. Mi rimane nel cuore la vicinanza alla popolazione, alle persone, ai cittadini della provincia, perché è una cittadinanza che merita di essere supportata, di essere comunque ascoltata e di trovare soddisfazione nelle richieste, per come abbiamo detto prima un alto livello di richiesta civica e quindi che necessita una nostra attenta risposta continua e costante tutti i giorni. Purtroppo di omicidini ne sono accaduti, di femminicidini ne sono accaduti, abbiamo avuto anche degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato la nostra provincia, la nostra regione e anche le regioni con termini. Quindi in tutte quelle situazioni logicamente chi ha operato è operato al meglio, perché abbiamo risolto tutti gli omicidi che ci sono stati, non si risolvono da soli questi omicidi e anche gli interventi che ci sono stati nel corso di questi due eventi alluvionali significano o rendono necessario il fatto e rendono esplicito il fatto che comunque bisogna essere sempre pronti nel quotidiano anche quando ci sono le cose ordinarie, anche lì bisogna sempre restare attenti. La notte che c'è stato il nubifragio dell'alluvione di Cantiano è quella che ogni volta che ci penso la rivivo sempre, perché è stata una notte lunghissima, una sera è una notte lunghissima, fino alla mattina dopo e nei giorni successivi perché purtroppo da noi non ci sono stati morti, però in provincia di Ancona ci sono stati diversi morti ed è stata proprio vedere la difficoltà delle persone a rialzarsi, però visto poi dopo due anni, perché ormai sono quasi passati due anni, come la gente per quel che riguarda Cantiano, Cagli, la nostra zona, Serra Santa Bondi e Pergola, si è comunque rialzata ed è andata avanti. Sicuramente, come dicevamo anche prima, è una realtà che riempie il cuore. Sia la città di Pesaro che tutta la provincia perché è veramente composta da persone, come dicevamo, laboriose, persone che hanno un altissimo rispetto delle istituzioni, un altissimo senso civico. Per il nostro lavoro avere un contatto quotidiano con persone così è quello che dà soddisfazione e soprattutto la motivazione per andare avanti e cercare sempre di dare il massimo. Le operazioni di servizio ne abbiamo fatte diverse, abbiamo anche certificato delle colleganze con regioni in particolare del Meridione, parlo in particolare della Campania, stroncando anche dei traffici di stupefacenti importanti, quindi una in particolare non me ne viene. Lo ripeto, è l'impegno costante, l'impegno quotidiano che poi porta alla fine i risultati e il totale che è importante.